Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 28 gennaio 2011 e vedete bene il titolo del video, vero? Le lolite di Jean-Paul Sartre. Dunque, 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 io ho avuto l'avventura di collocare uno o due giorni fa il video intitolato così. Io, Serafino Massoni, mi sono messo nei panni di Gat Lerner e ho girato un video come se parlasse Gat Lerner. Il video è Gat Lerner. Andate pure a vederlo, cari amici, andate pure a vederlo. E ovviamente il video ha suscitato un interessante dibattito. Ad un certo punto, tra i commenti, non salta fuori il nome di Jean-Paul Sartre. Io mai, mai, mai avrebbe pensato che saltava fuori il nome di Jean-Paul Sartre. Tra i commenti in calce al video intitolato Io Gat Lerner. Io non posso ora fare la storia di tutta la faccenda dei commenti. Andate a vedere, cari amici, abbiate pazienza. Andate a vedere il video Io Gat Lerner. Date un'occhiata ai vari commenti e vedete che trovate il nome di Jean-Paul Sartre. Poi capirete pure perché salta fuori il nome di Jean-Paul Sartre. Allora, siccome io, Serafino Massoni, devo difendere, diciamo così, il buon nome di questo canale che gode della partnership, YouTube ha conferito a questa piccola tv pubblica la partnership, perché YouTube ha verificato che è un canale serio. Dice cose serie. È un canale di informazione corretta, precisa. E allora, eccomi qua, cari amici, a parlare delle lolite di Jean-Paul Sartre. E vediamo un po' perché, vediamo un po' perché, cari amici, vediamo un po'. Ha preciso, preciso, preciso in anteprima che qualche tempo fa avevo collocato il video intitolato «L'età legale per fare sesso». Quindi andate pure a vedere il video di Serafino Massoni che si trova su questa piccola tv pubblica intitolato «L'età legale per fare sesso». D'accordo? Io penso che sia una cosa buona e giusta che un adulto non possa fare sesso con una minorenne. È una cosa buona e giusta perché è stato stabilito dalla legge. E se la legge ha stabilito una tale proibizione, un motivo ci sarà pure. La legge dice che fino al compimento del diciottesimo anno, sì, l'età è convenzionale, potrebbe essere due giorni prima, due giorni dopo, però così, grosso modo, fino al compimento del diciottesimo anno, un individuo non ha ancora maturato una piena maturità emotiva. E per cui se un maggiorenne si mette con un minorenne, uno fa presto a pensare che il maggiorenne può usare della minorenne abusando del fatto che lui è un maggiorenne e che quindi c'è una qualche sorta di potere nei confronti della minorenne. Il potere che so che c'ha denaro, c'ha fama e via di seguito. Insomma, è chiaro, c'è una forma d'abuso. Bisogna aspettare che uno sia un maggiorenne emotivamente parlando, e si presume che ciò avvenga dopo il compimento del diciottesimo anno, per ritenere legali i rapporti sessuali con un maggiorenne, capito? Datevelo a vedere il video intitolato L'età legale per fare sesso, chiaro? L'età legale per fare sesso, chiaro? Bene, cari amici, bene. E adesso arriviamo a Jean-Paul Sartre, La grande guida spirituale della gauche francese e anche della sinistra mondiale. Anche della sinistra mondiale. Quello che io vi voglio far capire, e sapete bene che ve lo faccio capire sulla base di questo mio romanzo storico-mitologico La Stimpe del Serpente, che è ambientato ai tempi della guerra di Troia, la quale fu il momento cruciale del grande passaggio dal matriarcato al patriarcato. E questo canale io vi ho sempre fatto notare come il patriarcato. Noi viviamo il patriarcato, anche se gli ultimi due secoli del patriarcato si caratterizzano come capitalismo. E per cui andate pure a vedere il video L'eresia capitalistica. L'eresia capitalistica. Ci sono pure i video intitolati L'eresia sovietica e l'eresia nazista. E poi ultimamente c'è pure il video L'eresia capitalistica. Noi viviamo in patriarcato al capitalismo. E io vi ho sempre detto che patriarcato e la sua ultima espressione del capitalismo è pieno, 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 pieno zeppo di contraddizioni. E in patriarcato, soprattutto in patriarcato al capitalismo, noi viviamo sulla base di una duplice o triplice morale. Duplice o triplice morale, amici miei! Duplice o triplice morale! Ma procediamo con ordine, procediamo con ordine! Procediamo con ordine che Serafino Massoni si documenta sempre. Allora, vediamo un po' in che consiste questa duplice o triplice o quadruplice morale, cari amici. Allora, alle nuove generazioni, da tanto tempo, si insegna, non c'è mica soltanto la responsabilità dei politici o dei governanti, c'è pure la responsabilità degli intellettuali. E' perché gli intellettuali si pongono come guide, come fari che illuminano l'esistenza in maniera che i giovani possano addentrarsi nei sentieri della vita. Eh, c'è stanno mica solo i governanti o i politici a questo mondo, c'è pure gli intellettuali, no! E che gliela diamo tutta ai politici la responsabilità delle cose brutte? E diamogliela pure agli intellettuali, no? A ciascuno, il suo, gli pare o no? Non è che gli diamo importanza agli intellettuali quando ce pare e quando non ce pare non gliela diamo più l'importanza sul negativo. Beh, da tanto tempo nei libri di testo per le scuole medie e superiori, specialmente per quelle scuole medie e superiori che preparano l'insegnamento e anche libri di testo per l'università, per quelli che un giorno andranno ad insegnare nelle scuole a legno di ordine grado. quando si arriva al capitolo dedicato al grande illuminista francese Jean, Jean-Jacques Rousseau, non si scrive che Jean-Jacques Rousseau è il fondatore, il fondatore, il padre della pedagogia contemporanea, cioè dell'educazione contemporanea. Jean-Jacques Rousseau è il padre. Beh, e che faceva sto padre? Ha scritto dei gran bei libri, vabbè, ma come ha fatto? Ecco qua, duplice, triplice, quadruplice, quintuplice e morale che caratterizza i comportamenti umani in patriarcado, specie in patriarcal capitalismo. Eccolo qua, Jean-Jacques Rousseau, che può essere considerato il profeta dell'educazione illuminista, ha cinque figli dalla sua compagna e poiché questi sono figli reali e non astratti come l'Emilio, perché lui ha scritto l'Emilio, il capolavoro della pedagogia, però l'Emilio non esisteva. Era, l'Emilio è un romanzo, è un trattato di Jean-Jacques Rousseau e lui in questo trattatone va e spiega come va educato l'Emilio, ma non era figlio suo l'Emilio, era un personaggio di fantasia. Allora, Jean-Jacques Rousseau, che può essere considerato il profeta dell'educazione illuminista ed è tutt'oggi per me, della classe intellettuale dei libri di testo, è sempre il padre della pedagogia contemporanea, ha cinque figli era la sua compagna, era una lavandaia, mi pare, la sua compagna, ha avuto cinque figli e poiché questi cinque figli sono figli reali e non astratti come l'Emilio, egli se ne libera rapidamente depositandoli dopo ogni nascita nello spizio dei trovaderli, capito? L'hanno chiamato il padre della pedagogia contemporanea, accidenti, e se tutti i padri dovessero fare così che ogni figlio che nasce lo portano dai trovatelli, beh, non sarebbe più il mondo in cui viviamo, sarebbe un mondo alla rovescia, sempre in pace al capitalismo, ma con i figli trovatelli che devono essere mantenuti dal pubblico erario. Quest'uomo che crede nell'assoluta bontà delle sensazioni e ignora la tendenza umana al piacere disordinato ed egoistico, cioè, lui dice che lui, lui crede, quest'uomo che crede nell'assoluta bontà dell'animo umano, a Venezia si compra per pochi franchi una bambina di dieci anni per allietare sessualmente le sue seratte. Garante intellettuale che predica bene e lascia la male. Stiamo entrando piano piano nel tema, piano piano. è il padre della pedagogia contemporanea patriarcal capitalistica, doppia, triplice, quadruplice o quintuplice morale. Eh? Ah, la classe politica? Vabbè, ma la classe politica governa, mica è un faro di luce intellettuale, sono gli intellettuali che illuminano il cammino anche gli stessi politici. Eh? Tra l'altro io in tanti video ho ricordato pure quell'intellettuale che fu Platone che nella Repubblica scrisse che i governanti devono essere privi di proprietà privata. Per cui ci ho fatto il video intitolato Se io fossi il premier. Se io fossi il premier. Eh, sono gli intellettuali che guidano. Però il comportamento degli intellettuali deve essere coerente con quello che scrivono o che dicono. non è che scrivono una cosa e poi nella vita concreta fanno il contrario. Eh? Dice dice gli intellettuali, i governanti, i politici, ma gli intellettuali hanno più responsabilità dei politici. Se i governanti predicano bene e razzano male è grave ma se sono gli intellettuali a predicare bene e a razzolare male è gravissimo. Gli intellettuali stanno alla cultura un po' come il Papa sta al cattolicesimo o come i cardinali stanno al cattolicesimo. Eh, mica possono i cardinali predicare bene sulla vita sensuale e poi nella loro vita concreta a razzolare male nella vita sessuale. Non so se mi spiego, se mi avete capito. Cioè, non esiste solo il ruolo dei governanti a livello di responsabilità ma c'è un livello più elevato che riguarda le responsabilità degli intellettuali. Avete capito? Bene, bene, bene. E non posso fare tutto l'elenco, cari amici, non posso fare tutto l'elenco e ci dovremmo chiedere perché la classe intellettuale ed editoriale ha tanto tanto esaltato il romanzo Lolita di Vladimir Nabokov. Lolita, dodici anni, quanti video ci ho fatto già su sta questione di Vladimir Nabokov e del suo romanzo Lolita che è un romanzo di pedofilia e con questo romanzo di pedofilia Vladimir Nabokov ci ha fatto tanti tanti dollari tanti eccolo qua la duplice triplice quadruplice quintuplice moralità interna al mondo patriarcal capitalistico quante quante volte ci ho parlato di Vladimir Nabokov che tutti fanno finta di non ricordarsi più che c'è questo romanzo Lolita che ha procurato tanti dollari ha procurato sterline o è un quello che sono a Vladimir Nabokov 12 anni ci aveva Lolita e lui la chiamava Lollipop la portava in tutti i motel degli states capito 12 anni Lollipop lecca lecca Lollipop pensate un po' voi pensate voi e adesso parliamo di questo galantuomo grande intellettuale guida spirituale guida spirituale della gauche francese e anche della sinistra mondiale era una guida spirituale questa qua in Franza in terra di Franza cari vedete questa era una coppia una coppia strana affari loro ma il fatto è che questa bella signora qua Simone de Beauvoir a un certo punto è stata cacciata via dal liceo dove insegnava perché faceva la magnaccia capito faceva questa bella brava signora tanto decantata procurava le fanzulle in fiore le rinfette al suo compagno si chiamavano così lei chiamava lui il cobra e lui chiamava lei il cattoro il cattoro e il castorino il castorino nel liceo di Parigi dove insegnava seduceva le fanciulette minorenni dopo vi do la documentazione bella e le passava al cobra sapete il cobra no e allora Jean Paul Sartre io non ho mai avuto simpatia per Jean Paul Sartre per Albert Camus sì tanta simpatia per Albert Camus il romanziere e un filosofo esistenzialista coevo coevo del cobra autore de lo straniero autore della peste autore di tanti romanzi e disagi ma questo non mi è mai piaciuto pensate che era così era un maestro del pensiero di fama internazionale ed egli nella sua opera critica della ragion dialettica critica della ragion dialettica scritto mi pare nel 1960 scrisse 1960 scrisse il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi pensate un po' voi quanta capacità di previsione che ha avuto questo intellettuale il cobra pensate un po' voi dopo neanche neanche 30 anni il marxismo dove si era realizzato come si dice in forma reale il marxismo reale il socialismo reale è crollato sparito tutto l'urse si è rovesciata adesso c'è la Russia di Vladimir Putin dove le distanze fra ricchi e poveri sono superiori a quelle che c'erano ai tempi dello czar lui scriveva il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi era una specie di papa del marxismo una guida spirituale a livello mondiale a livello mondiale pensate che c'era tanta puzza sotto il naso che benché gli vogliono dare il premio Nobel non so per la filosofia per le lettere non lo so per la letteratura l'ha risultato perché se ti danno un premio Nobel e lo rifiuti tutti ti osannano tutti ti osannano è diventato ancora più famoso per aver rifiutato il premio Nobel anziché rifiutarlo eh cioè è diventato più famoso per aver rifiutato il premio Nobel anziché accettarlo allora il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi e vabbè ma quale poteva essere il comportamento morale di quello che è stato definito l'homo homo colacca davanti i sovieticus ma l'homo sovieticus lo staccanoff lo staccanoff dell'URSS quando scriveva c'era l'URSS c'era l'industria sidiologica sovietica mi diceva ma che 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 operai che lavoravano nell'industria sidiologica sovietica che se potevano per loro permettere di avere una moglie una compagna che insegnava in un liceo e che poi portava a casa all'homo sovieticus quando tornava dalle aziende che gli portava a casa le ragazzine le minorenne era questo il comportamento era questo l'ideale la guida spirituale della della coscia della sinistra mondiale mondiale era la guida spirituale ha scritto di quelle belle opere come Jean-Jacques Rousseau che ve l'ho citato prima all'esordio di questo filmato Jean-Jacques Rousseau che a Venezia si era comprata una bella ragazzina di dieci anni per godersela per tanto tempo per tutto il periodo che restò a Venezia ma vediamo un po' che feceva che feceva vediamo un po' perché questa Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir era chiamata la la grande Sartreuse Sartreuse cioè la grande compagna di Sartre come in Russia si dice uno si chiama Vladimir de Cognome la moglie diventa Vladimirova va bene e così qua siccome per analogia col fatto che lui era la guida spirituale del marxismo allora chiamarono lei la grande Sartreuse Sartreuse ma vediamo un po' vediamo un po' che feceva che feceva e qua noi in Italia non dobbiamo far finta che gli intellettuali non ce l'abbiano le loro responsabilità le responsabilità degli intellettuali quale guide intellettuali guide spirituali sono addirittura superiori alle responsabilità dei politici e dei governanti perché non è che i politici e i governanti si pongono nei nostri confronti come fari di luce intellettuali loro sono governanti fanno un livello inferiore agli intellettuali sono gli intellettuali che fanno le guide spirituali vediamo un po' per Sartre la guida spirituale della sinistra marxistica a livello internazionale negli anni 50 60 70 per Sartre il sesso era deflorare le vergini che la Simone de Beauvoir sceglieva tra le sue allieve del liceo che lei seduceva safficamente e poi gli passava beh poi per gestire le sue infedeltà le infedeltà del cobra di lui Sartre il castoro cioè lei Simone de Beauvoir docente in un liceo di Parigi esercitava la sua maschia predisposizione al sesso seducendo le sue allieve che poi passava al cobra per la deflorazione eccolo qua il comportamento dell'intellettuale ebbe che bello se tutti quanti gli operai francesi ai tempi di Jean-Paul Sartre gli operai metallurgici francesi scritti alla Goscia che bello avessere fatto tutte queste cose magari con le cose con le bambinette di qualche collega metallurgico qualche collega metallurgico che si prendeva davanti di quella legnata in testa dal collega metallurgico se lo veniva a sapere che l'altro collega metallurgico gli aveva scusatemi sverginato la figlia minorenne la guida spirituale doppia tridice quadruplice pentubrice morale patriarcal capitalismo e vediamo chi furono queste povere allievi che venivano deflorate dal cobra le prime furono le fuoriuscite russe fuoriuscite russe dopo il 17 dopo la rivoluzione sovietica del 1917 poi continuò nel 18 il 19 la guerra civile tanti tanti nobili russi anche altri bolvesi scapparono via quelli che non furono ammazzati scapparono via in occidente no e furono furono le fuoriuscite russe olga e vanda kosakievix olga si sarebbe autoferita dopo la seduzione del castoro eccetera eccetera qua ne nominano due ma a me personalmente risulta che siano state molti di più anche se fossero soltanto questi due con nome e con cognome perché poi dopo lei è stata cacciata via dal liceo quindi magari sono saltati fuori questi due nomi qua perché quando tu acchiappi un colpevole il colpevole paga per un timoreato che ha compiuto non sempre paga per tutti i reati che ha compiuto nel corso della sua vita di delinquente e vabbè allora perché delinquente è un delinquente da poco conto se viene beccato al primo colpo ne fa tanti e poi così qua e una si è addirittura ferita probabilmente voleva suicidarsi dopo questa deflorazione fatta da questa guida spirituale di Jean-Paul Sartre poi i genitori di una di costori di queste ragazze deflorate vergini e ancora minorenni minorenni e fece delle delle indagini e fece allontanare per tur tur pitudine Simone de Beauvoir castoro dall'insegnamento nei discei statali capito capito questa era la compagna la sartreosa la compagna della guida spirituale della sinistra capito lui il copra era la guida spirituale lei era la compagna della guida spirituale ma che bella coppia cari amici ma che belle guide spirituali intellettuali proprio con Jean Boulsard che insegnava nei suoi libri come educare i figli e scrisse l'Emilio però i suoi cinque figli nati mi pare che la moglie era la lavandaia Teresa la vostra non mi pare subito l'orfanatrofio le metteva doppia doppia triplice quattruplice quittuplice morale cari amici che bello che bello che bello predicare bene e razzolare male e questo mica lo fanno solo i politici lo fanno soprattutto gli intellettuali e ciò è ancora più grave perché sono gli intellettuali i fari i fari ma che bei fari che abbiamo cari amici ah allora poi non parliamo del collaborazionismo di Jean-Paul Sainte durante l'occupazione nazista della Francia sapete che in Francia in pratica la Francia è occupata tutta dai nazisti però un pezzo di Francia la Francia meridionale fu proprio occupata dai nazisti la Francia settentrionale attorno a Parigi ebbe una certa autonomia sempre sotto il controllo nazista era la Repubblica di Vichy e beh tutta la Francia sia nella Repubblica di Vichy che nella Francia governata direttamente dai nazisti erano già sorti i movimenti partigiani e non ne aveva voluto sapere dei partigiani e Jean-Paul Sartre in Saint-Poté che erano con la guida spirituale il faro di luce civiltà del comunismo del morsismo internazionale che non ne aveva voluto sapere niente mentre la Simone de Beauvoir da quella signora lì lavorò per la radio nazionale francese controllata da tedeschi mentre Saint-Cobra si faceva noto come scrittore in una Parigi boicottata dagli altri scrittori gli altri scrittori che non erano magari i fari intellettuali della gauche come lui boicottavano Parigi stavano alla larga dai salotti letterali lui invece si faceva un nome e mi pare che fu proprio in questo periodo che egli scrisse la sua opera esistenzialistica Let l'essere è nulla dopo verrà invece la grande opera ideologica critica della ragione dialettica dove lui scriverà appunto il marxismo e l'insuperabile filosofia dei nostri tempi ne andate io la dire a Fidel Castro che il marxismo è al fratello di Fidel Castro che è il marxismo e l'insuperabile filosofia dei nostri tempi che in questi mesi Fidel Castro e suo fratello stanno privatizzando tutta l'isola di Cuba la stanno privatizzando e i cubani dice vabbè se perdiamo il posto statale apriremo dei negozietti e la prima cosa che ha fatto Fidel Castro è stata quella di togliere l'assegno di disoccupazione perenne e dicendo ai cubani si l'assegno di disoccupazione l'avrete per due o tre mesi poi o trovate un lavoro o vi arrangiate e vi arrangiate vuol dire che andranno alla Caritas perché nell'isola di Cuba è cattolica la Caritas credo che ci sia anche nell'isola di Cuba e allora andate e capito dice il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi scriveva nel 1960 e andate io a dire a Fidel Castro che il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi andate io a dire a Fidel Castro a Putin andate io a dire a Putin a Vladimir Putin o a Boris Yeltsin o a Gorbaccio a Gorbaccio andate io a dire che il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi e io ho fatto il video fatto il video l'eresia sovietica e andatelo a vedere così capite qualcosa perché è crollata l'URSS si chiama il video di Serafino Massoni l'eresia sovietica allora mentre c'erano i nazisti e i partigiani francesi che lottavano contro i nazisti lei lei questo questo campione questa campionessa di duplice triplice quadruplice quintuplice modalità e patriarcal capitalistica lavorava ad una radio controllata dagli tedeschi e lui invece faceva la bella vita letteraria lui mentre gli altri intellettuali invece snobbavano non stavano nei salotti intellettuali di Parigi lui ci stava invece in più si prese egli Jean-Paul Salt la cattedra di Henry Dreyfus le foyer licenziato in quanto ebreu a te ti caccio non io perché sei ebreu e la tua cattedra all'università di Parigi me la prendo io Jean-Paul Salt guida spirituale della gauche francese e internazionale ecco cari amici doppia triplice quadruplice quintuplice moralità degli intellettuali nel mondo patriarcal capitalistico allora ora cerchiamo di chiudere adesso il discorso ah mi raccomando eh non mi deludete andate a vedere pure il video l'età legale per fare sesso non mi deludete mi raccomando eh anche quello è un video interessante che ci ha avuto tante visualizzazioni ha tanti bei commenti capito e poi vi raccomando non mi deludete andate pure a vedere il video che sta alla base di questo video qua che è io Gad Lerner perché tutto nasce da quel video là capito perché in quel video là di tutto lato io Gad Lerner che arrivano tanti tanti commenti salta fuori pure il nome di Jean-Paul Sartre eccolo qua e andiamo a finire questi intellettuali sono questi gli intellettuali questi sì e tutti dicono ah dobbiamo seguire gli insegnamenti degli intellettuali eh mica si dice dobbiamo seguire gli insegnamenti dei politici si dice dobbiamo seguire gli insegnamenti degli intellettuali perché gli intellettuali stanno a un livello superiore ai politici ergo hanno delle responsabilità superiori ai politici responsabilità morali e non ci sono mica solo le responsabilità legali ci sono le responsabilità morali che delle volte sono ancora più gravi di quelle legali gli antichi romani che di diritto se ne intendevano prendete nota cari amici prendete nota gli antichi romani che di diritto se ne intendevano scrivevano non omne quod allicitum onestum est non tutto ciò che è allicito è onesto capito allora se gli intellettuali non hanno delle responsabilità legali in quanto non sono governanti hanno delle responsabilità ancora più gravi in quanto su di loro gravano la responsabilità di natura morale che sono ancora più gravi di quelle di natura legale capito cari amici a buon intenditor poche parole e chi ha orecchi per intendere intenda mi raccomando mi raccomando e chi è senza peccato scagli la prima pietra e mi rilascio al video di God Learner intitolato io God Learner per cui se meglio volete capire questo video qua è bene che dopo vi andate a vedere vi andiate a vedere il video di God Learner e poi ancora l'età legale per fare sesso ok cari amici mi raccomando ricordatevi sempre della doppia triplice quadruplice quintuplice e moralità delle nostre guide spirituali intellettuali c'è la responsabilità di tutta la classe intellettuale intellettuale attuale se nei libri di testo per le scuole medie superiori si continua a nominare come fondatore della pedagogia padre della pedagogia contemporanea Jean-Jacques che i suoi cinque figli li sbattè tutti tutti all'orfanatrofio e che a Venezia si compra per pochi franchi una bambina di dieci anni per allietare sessualmente le sue serate che cosa aspettano i nostri prenditi intellettuali quelli che nelle case editrici fanno i libri di testo per le scuole medie superiori a sbatterlo fuori dai libri di testo per le scuole medie superiori questo signore che a Venezia si compra per pochi franchi una bambina di dieci anni per allietare sessualmente le sue serate va bene va bene cari amici cari amici e quanta tristezza quanta tristezza quanto dolore per dover sta qua a continuamente a impegnarmi per aprire le menti per aprire le menti che vagano vagano nell'oscurità che cercano i fari di luce cercano i fari di luce e questi qua sono due fari di luce cari amici eh capito due grandi fari di luce va bene mi raccomando andate a vedere il video che è tale per fare sesso mi raccomando il video io Gadlerner e dulcis in fundo andate a vedere pure il mio video intitolato se io fossi il premier grazie cari amici se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti